A presto il naso? Ah ah è un naso Attenzione è un naso Che merda di merda Ehi Vale guardala sono a videocamera Oh è veramente bella Ehi ma non c'è nessuna telecamera qui E infatti è Nutella Ah 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 In un tranquillo pomeriggio Ecco cosa potrebbe succedervi Mi piacciono i placaggi A mio via inizia lo spot 3 2 1 via E lo spot è iniziato Oh buonasera Anche voi volete una bella cresta come la mia? No Vabbè comprate il nuovo gel Juventus E vi verrà una grande cresta come la mia Ciao mamma Ehi anche voi volete avere i capelli come i miei? Provate Sansil ultra riciclici E anche voi avrete i capelli Soffici e ardui come i miei Ma riciclici Smites libera i cani Oh finalmente vi faccio una partita con il nuovo xbox 370p greco a mario kart 3d Scelta personaggi Scelta personaggi Scelgo te Ok preparati per la gara Bip 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 Benvenuti all'ultima gara del campionato mondiale di rally Abbiamo qui il nostro guidatore della Alfa 55 special Al guidatore Valentino Al navigatore Giovanni 3 2 1 Go 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 11 12 11 12 11 12 13 questo è il mio motorino avete capito ma è rosa ok è rosa l'ho rubato una vecchietta sulla statale avete problemi e non dovete guardarmi storto sono io che dovrei guardare storto voi state viaggiando sul motorino rosa da gay e canzate canzoni da gay e per lo più siete fermi io vi lascio il motorino non voglio andare a porti con noi amore soccorrivi soccorrivi mi hai chiamato amore? non voglio toglierti ma non mi ha chiamato amore albero dimmi mi piacciono i placaggi no 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 no